Con quanto ho appena ascoltato, se la collega parla di Europa, il problema è che l'Europa considera l'Italia il porto più sicuro rispetto a quelli che effettivamente vanno a cercare queste ONG. E non è così. Tardiva la risposta della Spagna, tardiva l'eventuale risposta di Malta. Però vorrei chiedere a quella persona che, non so, probabilmente fa parte dell'equipaggio... Il portavoce, chiedo scusa, ma non ci conosciamo. Probabilmente in due settimane si sarebbe potuti arrivare prima in Spagna. Allora, il problema è che quando arrivano vicine queste situazioni, ecco che si scatena tutto l'inferno rispetto all'Europa. Sì, l'Europa no. Qualcuno li accoglie, qualcun altro non li accoglie. La politica delle ridistribuzioni è evidente che non funziona. Ma detto questo, termino se posso, detto questo, l'Italia non può farsi carico di mezza-Africa che fondamentalmente, ragionevolmente, o meno ragionevolmente, può arrivare a noi. Perché la Open Arms, visto che Salvini, l'ha detto anche ieri, spesso l'ha ripetuto anche ieri, non si è diretta direttamente verso la Spagna? Sì, sì, mi sembra sorprendente che dopo due anni, perlomeno, che stiamo parlando di queste normative internazionali, ancora ci siano esponenti politici che non sanno di quello che stanno parlando. Noi siamo arrivati al porto sicuro, a cui si arriva il prima possibile. I soccorsi sono stati in una posizione a cui il porto sicuro, a cui si arriva il prima possibile, era anche l'Usa. Gli obblighi internazionali, non solo degli equipaggi, ma anche dei governi, è sbarcare il prima possibile le persone in un porto sicuro. Il porto sicuro è Lampedusa, quello non si sta facendo, ci sta dicendo che ci metteremmo in due settimane, che siamo stati qua, saremmo già stati in Spagna, ma non è quello il punto. Il punto è che siamo fuori da due settimane, perché si stanno incompiendo, si stiano violando quelle normative, quegli obblighi internazionali, a cui l'Italia è firmataria. Perciò che adesso, a livello di propaganda, probabilmente politica, si stia dicendo guardate che in due settimane sarete arrivata in Spagna, è vuoto. E tra l'altro sorprende che continuate con questo messaggio totalmente fuorviante, dopo anni in cui è stato dichiarato e documentato, e in cui ci sono state anche, tra l'altro, delle risoluzioni anche a livello di processi penali o di investigazioni penali, che dimostrano tutto ciò. Perciò, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del rispetto delle persone o stiamo parlando di qualcosa? Allora di no, 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 scusami, no, ma non la metta sotto questo punto di vista. No, perché non la metta sotto qua. Rizzetto, Rizzetto, chiediamo un diretto interessato. Un attimo, Rizzetto, non la conosco e voglio dire che non mi permetto di far dire da lei. Scusate, scusate, Rizzetto, Rizzetto, un attimo, un attimo, un attimo. Rizzetto, chiediamo una persona che conosce molto bene anche l'argomento, è stato ex ministro dell'interno, dal buongiorno Roberto Maroni, buongiorno.